In verità non faccio una presentazione del testo a firma oltre che del sottoscritto del senatore Ivi Mercati che poi prenderà la parola, della senatrice Finocchiaro e tanti altri, disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche, lo sviluppo del software libero. Non la faccio perché i tuoi giusti richiami mi invitano forse a considerare questo materiale a disposizione, magari faccio proprio un passaggio veloce, è a disposizione di questa bella iniziativa, mi complimento con chi l'ha pensato, organizzata, non voglio fare retorica ma davvero utilissima. Questa è importante, questa parte perché entra nel vivo del dibattito che il professore, se posso dire del tu, che hai evocato. Il tema generale di questa iniziativa che non vuole essere una delle tante leggi, se possibile, che tendono ad appesantire, concordo molto con lo spirito di tanti interventi che ho sentito, quanto invece di introdurre delle forme di regolazione soft, questo è lo spirito dell'iniziativa, discussa peraltro, c'è qui Flavia Marzano che ringrazio sempre, con lei e tanti altri in rete per mesi. Garantire un accesso neutrale, la net neutrality, tema enorme di cui si è occupato e come anche Obama, è stato anzi uno degli argomenti della sua iniziativa, tema in discussione in tanti luoghi del villaggio globale, meno in Italia, dico al collega Palmieri di cui ho apprezzato veramente lo stile e anche il tono, chissà se mai si riuscisse a far discutere al nostro Parlamento di questo tema senza che qualcuno chiami il 113, diciamo così, perché sono altri, come sappiamo, i temi sulla comunicazione che più animano, anche giustamente per certi versi. La neutralità della rete è il tema chiave che dà una possibilità interpretativa anche al rilevantissimo argomento di questo dibattito, cosa è pubblico, cosa è privato. La neutralità della rete risponde in un certo senso e le reti sociali sono, se mi posso permettere, un terzium genus rispetto alla concezione classica degli ultimi tre secoli almeno, del rapporto tra pubblico e privato, mi perdonerete se qualche filosofo mi schiappe, il rapporto classico tra pubblico e privato perché la rete sociale e la democrazia della e nella rete, la neutralità della rete che significa accesso libero per tutti, in un certo senso introduce un privato sociale che è uno dei grandi pezzi del nuovo welfare della comunicazione ed è anche un'idea politica nel senso più forte e più autorevole, se posso dire, del termine. Perché è questo lo scopo? Noi dobbiamo assicurare ai cittadini la possibilità di avere un ruolo attivo non di telecorpio di soggetti passivi piuttosto invece di soggetti attivi con partecipi al processo decisionale. Qualcuno si spinge un po' in là, il nostro amico De Kercove, la democrazia online, la postdemocrazia nella chiave non autoritaria bensì partecipativa, ma certo questo è il tema del secolo che si è aperto. E la diffusione dell'uso delle tecnologie, il digital divide, tutto quello che abbiamo anche sentito e visto prima ci dice molto, una collega diceva prima c'è anche il gender divide, c'è anche questo, c'è la differenza tra generazioni che non è poca cosa, può avere un impulso attraverso il sistema formativo, argomento essenziale dentro questo percorso di discussione. Guai a scindere i vari saperi, quindi il sistema formativo e il sistema informativo si connettono sempre più e sono un sistema formativo allargato di cui dobbiamo ragionare davvero in modo sistemico. Rimuovere gli ostacoli, rimuovere le differenze negative, valorizzare invece quelle positive, le diverse storie culturali, le etnie e questo ci porta al tema che cos'è la rete. Ecco, la rete è qualche cosa che fa parte dello spazio pubblico ma deve avere una forte autonomia dei soggetti privati. Non l'individualismo nella versione più classica e liberale ma una forma di soggettività privata che però si corrobora, si rafforza dentro l'universo sociale. Beh, Habermas ne parlò diffusamente e Rodotà ne parla spessissimo anche con brillanti articoli piuttosto frequenti. Siamo di fronte quindi a un'altra idea di sviluppo e quindi lo stesso tema cose pubblico, cose privato si corrobora, ecco, si innerva anzi dentro una trama sociale, culturale più interessante, evolutiva se possibile. È la speranza, il rischio invece è un'involuzione, adesso vado oltre, non voglio esagerare nell'uso del tempo, certamente c'è un tema molto forte perché il dibattito pubblico privato non può ancorarsi semplicemente con tutto il rispetto per chi ne conduce, come dire, l'approfondimento e che io davvero considero importante. Il tema della privacy classicamente inteso, se mi passate, non è più il tema tipicamente del diritto più classico, diciamo così, della tutela della riservatezza. Certo che è questo e anche questo, ovviamente, c'è tra l'altro una buona legge in Italia, la 675 del 96, ma è un rapporto dinamico tra pubblico e privato, in cui il pubblico e il privato forse si rovesciano per certi versi e danno anche una priorità differente. Nella società informazionale, di cui Calsels ci parla con grande cura, anche nei suoi più recenti volumi, e dunque, avevo preparato insieme a Luigi tutta la parte che riguardava il testo di legge, che poi tocca il tema del software libero, tocca il tema del piano digitale, ma comunque a disposizione, e qui vengo proprio, per concludere, alla parte che ci riguarda. Cosa è pubblico, cosa è privato? Come sviluppare l'idea della socialità in rete? Ecco, attraverso forme di cittadinanza elettronica diffusa e autoregolamentazione, non alle bardature, non alle censure, concordo molto con quello che ho sentito prima in diversi interventi, non a un'idea antica e passatista di demarcazione tra pubblico e privato, nella società informazionale è molto più complesso fare questa suddivisione, tuttavia rispetto della persona e soprattutto dei soggetti più deboli. Anzi, mi fa specie che nel dibattito tra pubblico e privato su privacy e diritto all'informazione, grande contraddizione di questo secolo, si abbia sempre in mente il diritto alla privacy di chi ha potere. A me interessa di più, a noi interessa di più il diritto alla privacy di chi non ha potere. Forse è più grave che un poveraccio o una poveraccia sia messo all'agonia elettronica piuttosto che una figura che ha un ruolo pubblico, che ha tanti modi per rispondere. E dunque, guai alla censura, valorizzazione delle persone. Se ho ancora un attimo, ci sono tre grandi spazi di cui occuparci. Molto diversi tra di loro, anche se poi si intrecciano. Lo spazio fisico che è quello della struttura urbana, della struttura architettonica in cui il tema pubblico-privato c'è e come, perché la sfera pubblica poi ha le sue forme di autoritarismo sulle opportunità di chi invece si trova cittadino isolato magari con dei problemi anche di carattere fisico su cui regolare la propria socializzazione. Poi c'è lo spazio regolato dal linguaggio. Su questo c'è un grande tema che riguarda il pubblico e il privato. Apro e chiudo una parentesi. Accidenti. Ogni tanto capita, come capitò con l'emendamento d'Alia, votato per alzata di mano all'insaputa dei più. Ci buttammo in tre verso D'Alia ma era troppo tardi perché si votò per alzata di mano. È passato in commissione il testo, quello sul apparenzi anche contro le frodi, benissimo. Però ha dentro un pezzo molto inquietante sul tema del pubblico e del privato, della privacy. C'è quello della memoria remota. E' chiaro che c'è il diritto a mettere mano in tutti gli archivi, certo. Però è diverso se un motore di ricerca può farlo senza alcuna forma, diciamo così, di autoregolazione e per cui una notizia apparsa 50 anni prima che è in un archivio di un quotidiano diventa la notizia per una persona che nel frattempo non ha più quei problemi. E' un tema enorme questo. Come il tema in generale della socializzazione in rete che può oscillare tra un plus di democrazia e invece un meno di opportunità effettive per la nostra libertà. E quindi c'è l'altra questione che è quello appunto lo spazio della rete che deve avere standard, protocolli, programmi, valorizzazione del ruolo della società civile per far sì che si trovi sempre in modo dinamico questo punto di equilibrio. E in conclusione direi che oltre alla immanente iniziativa che dobbiamo assumere tutti quanti per una governance evolutiva e democratica della rete dopo le sorti di Iken e quello che ne è intervenuto recentemente credo che dobbiamo tutti quanti mettere una parola fine a ogni strategia censoria o di controllo burocratico. Lo facciamo anche in un articolo specifico nel nostro progetto di legge, però fatemi dire proprio in conclusione che va anche fatto un chiarimento per esempio su Facebook che ha avuto un grande successo, è un caso di scuola e abbiamo anche lì qualche fenomeno insidioso sul tema di cui stiamo parlando perché l'appropriazione dello spazio della comunicazione sotto il governo di un dominio privato in questo caso di Facebook fa sì che ogni mail, ogni colloquio in rete diventi proprietà di Facebook questo è accettabile? No! È un tema enorme perché se noi vogliamo e io sono militantemente d'accordo che la rete sia appunto la metafora di un nuovo modello di sviluppo un po' come la green economy, sia una grande opportunità, una straordinaria opportunità forse persino oltre certi steccati della politica classica però occupiamoci seriamente di questi argomenti in modo che vi sia uno spazio democratico e pubblico che prevalga su ansie di carattere invece individualistico, proprietario e regressivo poi il mio saggio collega Vimercati non so se citare diciamo così le coppie celebri Luigi ormai facciamo insieme se posso farlo qui in questa sede così importante Marx e Engels, tu Marx ovviamente è solo Engels, grazie Allora ringrazio l'onorevole Vita perché è rimasto straordinariamente nei tempi complimenti, però capita spesso che anche chi controlla comunque tende sempre a sforare in questo caso non è accaduto e quindi onore al merito Un'altra cosa che mi sembra interessante diciamo fra le varie cose che sono emerse dal ragionamento che ha fatto l'onorevole Vita è sicuramente una questione che ormai negli Stati Uniti sta cominciando ad essere dibattuta soprattutto di quello che si chiama il social media marketing ormai il marketing online si fa sempre di più, sempre meno chiedendo le cose alle persone ma sempre più utilizzando motori di ricerca specializzati che si vanno a cercare ciò che le persone dicono all'interno di questi spazi digitali quindi sicuramente riflettere sul fatto che una mia foto postata su Facebook corre il rischio, anzi tutt'altro che il rischio di diventare proprietà privata sicuramente è una questione da prendere in considerazione ed è una cosa appunto su cui come diciamo si indicavo prima un'etica della comunicazione online dovrebbe assolutamente fare i conti ovviamente etica sempre intesa in senso di che tipo di valore vogliamo noi che esprimino i diversi soggetti che sono coinvolti nella comunicazione online grazie a tutti